Le mostre quest'anno segnano un percorso alla scoperta dell'eredità dei padri, di che cosa vuol dire riguadagnare questa eredità per poter possedere qualcosa di nuovo. Prima di tutto una libertà dell'uomo che si mette in movimento, un io che si riscopre e allora sarà interessante entrare nella mostra del lavoro e capire le domande che i giovani oggi hanno e che pongono al mondo del lavoro, perché sono domande anche nostre. O arrivare fino alla mostra delle nuove generazioni, questa Italia multietnica abitata da ragazzi italiani, ragazzi stranieri che si riscoprono insieme protagonisti della stessa Italia, dello stesso paese, delle stesse domande, degli stessi valori e soprattutto si riscoprono con lo stesso cuore, in ambiti, in spazi di dialogo e di libertà che li rendono veramente uomini. Oppure la mostra dell'arte contemporanea in cui gli artisti ci faranno incontrare le loro opere, sette artisti per sette opere e vedremo come ci richiamano al passato ma sono totalmente nuove e sono opere che ci parlano dell'oggi, dell'attualità, di quello che oggi l'uomo è. Per arrivare alla mostra della Terra Santa di Gerusalemme, più precisamente della custodia, sono 800 anni che San Francesco mandò per la prima volta i frati in Medio Oriente nei luoghi abitati da Gesù, perché San Francesco aveva il forte desiderio di immedesimarsi con l'incarnazione di Cristo e noi percorreremo la storia di questi 800 anni. In più la mostra dedicata ai 100 anni della rivoluzione russa. Sono 100 anni che ricordiamo, ma vogliamo guardare proprio quell'istante in cui tutto è crollato, in cui si è delegittimato il potere, un vuoto tale che ha generato questa rivoluzione che ancora oggi ci lascia una ferita, cioè quella dell'uomo che si è sostituito a Dio, che si è sostituito agli altri uomini, che ha voluto fare da padrone. Noi oggi però possiamo ricominciare e quindi guardare questo pezzo di storia ci può far guardare al presente con un'ipotesi del futuro positiva, facendo guardare ai giovani che cosa vuol dire rimettere in moto il desiderio, rimettere in moto qualcosa che è già presente. Ecco, le mostre saranno tutto questo percorso, sono ricche di testi, di citazioni, di immagini, di musiche, di video che renderanno più chiaro il titolo del meeting di quest'anno.